Mi hanno detto, perché vi guardate così ragazzi? Che è successo? Gli applausi non vi sono stati sufficienti, li facciamo altri! Avete visto? Basta un mio via così, sono veramente eccezionali, questo pubblico è eccezionale. Oh, i ragazzini che abbiamo visto prima sono campioni? Finalisti campionati italiani, fate un passo avanti, quelli ragazzini che fanno... Loro, loro due, che fanno vent'anni in due, eccoli qua! Entriamo nel vivo del Kalaibico con il samba! Vai, vai! C'è, c'è! Ed ecco che prendono posizione, si ragazzi, bravissimi, veramente molto attenti a quello che succede anche dietro, ma come mai? Questo insegnamento è molto particolare! Sono pronti, andiamo con un primo ballo e vediamo con il samba! Ciao! Novo, ma se você me mata, se io te bego, se io te bego, se io te bego! evitare che ci messerano ho scontato con un'altra palata per aver come si trova a sua sala mi fa soli nell'altra risponare poi guarde come si era fa torza, torza! 25 lati non c'è no l'attata E' un salvo bellissimo, caldo, come il pubblico che abbiamo questa sera qui a Torre Omo. Grazie.